E' il Signore, il Re della gloria, alleluia, alleluia, viene a illuminare il Vigioce del In questo 21 dicembre l'antifona maggiore che ci viene donata dalla liturgia così recita O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte Gesù è riconosciuto, e cito il testo originale in latino, come l'Oriente, o Oriens Noi sappiamo che da Oriente sorge il Sole Il Signore Gesù è il Sole che sorge all'interno delle nostre vite E l'Oriente è colui che dà senso a tutte le cose E' la bussola che ci permette di assumere la nostra vita e di prendere le nostre decisioni E' ciò che ci orienta appunto E' il Sole di giustizia Vieni e illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra della morte Il Signore Gesù è colui che sorge nella nostra vita E che cosa ci permette di fare? Ci permette di uscire dall'ombra della morte E' presente quindi la dicotomia e lo scontro fra la luce e le tenebre Che cosa succede il 21 dicembre? Da un punto di vista astronomico siamo in presenza del solstizio d'inverno Cominciano ad aumentare i minuti di luce fino a diventare delle ore Quel giorno la Chiesa quando prega il Signore dice O Oriens, o Astro, o Sole che sorge Gesù è quel Sole che sorge così come astronomicamente aumentano i minuti di luce Grazie e buona giornata